Prendiamo il servizio, le entrate in campo, la Cicaluppo, Vastro Amore, Minutus Castelfrentano e la categoria Juniores, terza gara di andata del campionato regionale, ecco le entrate in campo, saluto al pubblico, i nostri ragazzi carichi, c'è il sorteggio, c'è il saluto, aiuto, oggi tocca al lupo, nel posto, Altro saluto Tra pochi minuti inizierà la gara Forse ragazzi in bocca al lupo Ecco il fischio di inizio Gara Pacicaluppo, Vasto Marina Virtus Castelfrentano valevole per la terza giornata Del campionato regionale categoria Juniors Qua sul campo sportivo Di località San Tommaso di Vasto Marina E' iniziata la gara, alle prossime riprese